Molti di più di quelli rimasti fuori dalla FIAC ormai, purtroppo noi una nuova protesta, noi è dal 2013 che siamo in protesta, prima per garantire i lavoratori che erano fuori dal sistema, ora siamo quasi tutti fuori dal sistema, i numeri sono che ce ne saranno un 3.500 ancora agganciati agli enti e il resto è un licenziato in Cassa Integrazione, un tratti di solito, comunque fuori. Per l'ennesima volta escono due bandi sicuri, avviso 1, avviso 6 per gli sportelli, avviso 1 per la formazione, ma tutto questo non scrive obbligando gli enti alla riassunzione di questo personale che è inserito nell'albero. Abbiamo chiesto fino a venerdì all'assessore di metterlo come situazione obbligatoria, cioè non è possibile che la scilabria ha passato mesi a rifare l'albero per poi non essere chiamati mai, mai perché noi abbiamo fatto la lista di mobilità orizzontale, ne sono stati chiamati un decimo, veramente una cosa infinita. Giriamo gli enti e purtroppo all'interno degli enti noi troviamo le persone che non sono iscritte all'albero, troviamo i cosiddetti professionisti, poi mi deve spiegare una ventenne che professionista è a livello di amministrazione. Quindi abbiamo tante persone che attendono eppure gli enti assumono, assumono con contratti innovativi, con contratti più vantaggiosi eccetera. Siamo troppe persone ormai alla disperazione perché lei deve immaginare che ogni ente, ogni lavoratore aspetta dalle 6 alle 20, 24 mensilità, non stiamo scherzando, alle quali si aggiungono un anno perlomeno di cassa integrazione ancora non pagato. Di cosa dovremmo respirare? Questo si chiama istigazione al suicidio delle persone. I sei morti li abbiamo già dati in due anni. Non vorremmo vederne più, non vorremmo vedere più persone, i nostri colleghi, dover fare l'incetta di soldi per curare i propri figli. È veramente vergognoso. Siete in attesa di un incontro con il prefetto, cosa vi aspettate? Noi ci aspettiamo che, come ogni volta che vengano attenzionate tutte le, che vengano richiamate gli uffici, i competenti e in particolar modo questa volta chiediamo che lei parli con l'ispettorato e obblighi l'ispettorato a mandare gli ispettori ente per ente. Noi vogliamo sapere quali sono gli enti e quali sono soprattutto le motivazioni come riescono ad assumere. ci sono per enti che hanno le persone con garanzia giovani a lavorare. Non è accettabile. Cioè, voglio dire, come entrano nel gioco la garanzia giovane della formazione? È una cosa mai strutturata, mai... Nel liberismo totale, sfrenato, ognuno fa quello che vuole. Noi non smetteremo. Noi dobbiamo salvaguardare queste persone e soprattutto la mente di queste persone, i diritti di queste persone. Chi ne ha 25? Io sono dall'88 nella formazione. Non è un gioco. Ho fatto di tutto, dall'insegnante di sostegno, l'orientatore, tante cose, tante riqualifiche, tante specializzazioni. E come me, tanti. E di che cosa dovremmo essere? Cioè, perché dirci non hai fatto un concorso? Siamo stanchi di questa frase. Alla Fiat non si entra nel concorso. Ricordiamoci. E siamo a contatto di diritto privato.